I sistemi mesh sono in grado di portare una connettività wifi internet in tutta la casa, in case grandissime, anche se volete trasferire il segnale wifi tra più piani. Tuttavia questi sistemi hanno un difetto, cioè costano molto. Praticamente i prezzi partono da un centinaio di euro per i modelli quelli più basilari, mentre se volete già un prodotto qualitativamente medio o comunque qualitativamente molto buono arriverete a spendere anche 3, 4, 500 euro. Ed è chiaro che molti non sono disposti a spendere queste cifre estremamente importanti, soprattutto se la necessità è quella di migliorare la connettività casalinga, magari portarla in una stanza specifica laddove la connettività è scarsa. Se quindi volete migliorare la connettività casalinga, la soluzione più economica è quella di un ripetitore wifi. Tuttavia ripetitori wifi e sistemi mesh hanno una differenza principale, cioè il modo in cui estendono la rete. Diciamoli in maniera semplice, quando voi installate un sistema wifi con vari ripetitori e collegate il vostro smartphone a quella rete wifi, quando navigate su internet, insomma, i vari dati vengono fatti rimbalzare tra i vari ripetitori, e così da offrirvi sempre una connettività alla massima velocità. Un ripetitore wifi ragiona in maniera differente, praticamente prende un segnale wifi già esistente, quello che viene generato dal vostro modem router, e lo espande. Quando voi vi allontanate dal dispositivo che genera la vostra rete wifi, quindi dal vostro modem router wifi, e più siete lontani, più ci sono tra il router, ad esempio, il vostro smartphone collegato a quella rete wifi, ci sono muri, ci sono porti, ci sono addirittura assoletti di piani, la potenza del segnale wifi diminuisce, e con la diminuzione della potenza diminuisce anche la velocità con cui potete scaricare i dati, quindi la navigazione sarà più lenta. Se questa potenza del segnale wifi diminuisce troppo, arriverete a un punto in cui non sarà nemmeno più possibile navigare, o addirittura in un punto in cui la rete wifi nemmeno verrà vista dal vostro dispositivo, e quindi non potrete nemmeno connettervi. L'obiettivo di un repeater è prendere questa connettività wifi nel punto in cui lo installate, quindi con la potenza che avete nel punto in cui lo installate, e espanderlo, cioè il segnale viene ritrasmesso. Tuttavia, ciò comporta una limitazione. Facciamo un esempio, la potenza del segnale wifi sul router, nella zona dove c'è il router, è pari al 100%, mentre quando vi allontanate arrivate a un certo punto, in questo esempio il punto è B, dove la potenza del segnale wifi è solo al 50%. Se vicino al router potevate navigare alla massima velocità, diciamo 100 Mbps, nel punto B, dove la potenza del segnale wifi è solo del 50%, riuscirete a navigare al 50 Mbps, la metà. Se poi vi spostate nel punto C, ancora più lontano, dove la potenza del segnale wifi è prossima allo 0, allora la velocità con cui potrete navigare da quel punto sarà prossima allo 0. Ecco, non è così matematico, non significa che se avete il 50% della potenza del segnale wifi navigherete alla metà della velocità, è solo per capirci e semplificare. Quindi, se posizionate il vostro ripetitore wifi nel punto B, dove avete il 50% della potenza del segnale, ecco che il segnale ritrasmesso potrà arrivare fino al punto C, dove prima era inesistente, tuttavia potrete navigare anche nel punto C alla massima velocità con cui navigate nel punto B, cioè ai 50 Mbps. Questa è la parte di teoria, diciamo così. Ovviamente per questo video ho fatto anche una prova pratica e ora vi faccio vedere appunto quello che si può fare con un ripetitore wifi. Per questo test utilizzo questo prodotto, il Devolo Wi-Fi Repeater Plus AC, un prodotto nuovo, uscito da poco, che include quindi, come dire, tutte le ultime tecnologie, di cui vi parlerò anche più avanti. Andiamo a vedere com'è fatto. Eccolo qui. Come dice il nome, è un Wi-Fi Repeater AC, quindi AC identifica la connettività, compatibilità con le reti AC. Tuttavia non significa che potrete abbinarlo unicamente a un modem router che offre quella connettività. C'è tutta una questione di retrocompatibilità, quindi di conseguenza andrà bene praticamente in qualsiasi installazione. Questo modello specifico ha un paio di particolarità interessanti. Prima di tutto ha una presa passante, che vi permette quindi di, come dire, non perdere una presa di rete della casa, perché una volta che voi andate a inserirlo, a collegarlo dentro, potete collegare qua un elettrodomestico o qualsiasi altra cosa. La seconda particolarità è che è dotato anche di due porte Ethernet classiche. Questo significa che, ad esempio, se voi volete portare la connettività Wi-Fi, potenziarla in uno studio, come per esempio in questo, mettiamo che io qui non avessi le prese cablate e volessi collegare un classico PC desktop che non ha il Wi-Fi, ecco, con questo io prendo il Wi-Fi, la connettività di internet tramite il Wi-Fi e poi la ritrasferisco tramite i cavi Ethernet. È una comodità in più nel caso di cui ne abbiate necessità. Per questa prova ho pensato qualcosa di un po' estremo, cioè voglio portare una connessione di rete Wi-Fi che io ho qui nel mio appartamento, nell'appartamento sottostante. Per capirci bene vi ho schematizzato appunto questo disegno. Nel punto A c'è il router che genera appunto il mio segnale Wi-Fi. Nel punto B, che è della parte diametralmente opposta del mio a casa, è il punto dove andrò a installare questo ripetitore perché l'obiettivo è portare la connettività internet nell'appartamento, come detto, qui sotto, proprio nella zona che sta sotto qui. Questo è il mio studio, sotto qui nell'appartamento sottostante c'è un salotto, voglio appunto portare quella rete proprio qui sotto. Quindi è il trasferimento dalla parte opposta della casa e deve anche attraversare praticamente una soletta. La rete che stannerò è la mia connessione di backup. È una rete da 10 MB in download e 1 MB in upload. Non è particolarmente veloce, ma ha la caratteristica di essere molto molto stabile. È un qualcosa utile in questo test perché appunto posso vedere precisamente, come dire, la quantità di band, la velocità a cui riuscirò a trasferire qui sotto. Bene, ora mi sono recato nell'appartamento qui sotto per misurare la connettività, la rete che voglio estendere, quanto è forte qui sotto e quindi a che velocità, senza il repeater, posso navigare. La situazione è decisamente drammatica perché a quanto pare quella connessione qui sotto nemmeno arriva. Non si tratta, la soletta, insomma, il pavimento che deve attraversare, non è una classica soletta perché questo appartamento è stato costruito su una costruzione già esistente, quindi in realtà c'è una soletta bella massiccia, probabilmente di cemento armato, non so che altro, non sono un esperto edile. Comunque, come dire, crea una barriera estrema per il segnale Wi-Fi al punto tale che lo filtra completamente e nemmeno arriva. L'unico modo con cui sono riuscito a connettermi a quella rete, quantomeno a vederla, è posizionarmi praticamente nell'appartamento sotto, ma praticamente sopra, nella zona dove c'è il router, cercando di diminuire la distanza il più possibile. In questo caso riesco a connettermi, ma nemmeno riesco a navigare. Procediamo quindi ad installare il repeater. L'installazione è estremamente semplice perché di fatto dovrete semplicemente andare a collegarlo in una presa elettrica. Nel mio caso lo collego là, dietro, nella scrivania che c'è, alle mie spalle. E successivamente avrete due strade da scegliere. La prima, più semplificata, che consiste nel inserire, appunto, il repeater, aspettare che i led diventano bianchi, cliccare su questo tasto WPS, praticamente un abbinamento WPS, e poi, entro un paio di minuti, cliccare sul tasto WPS del vostro modem router, nel caso in cui ce l'abbia. La seconda procedura, che è quella che vi faccio vedere ora, è utilizzare l'applicazione. Quindi, basta scaricare l'applicazione di Devolo, disponibile per iOS e Android, e tendenzialmente seguire la procedura. Vi dirà di collegare il repeater, aspettare un'ottantina di secondi che si avvia e crea la sua rete wifi, insomma, che si inizializza. Dopodiché, potrete andare a selezionare, tra le reti wifi, quelle che vi farà vedere, quelle disponibili, quella che volete amplificare. Inserite la password del wifi per permettere l'accesso, e aspettate ancora qualche secondo, e basta. Non dovrete fare altro, sarà tutto già configurato e utilizzabile. Ora la domanda è, ce l'avrò fatta? A portare la connessione qui sotto? Riuscirà il segnale ripotenziato dal repeater a traversare questa malefica soletta, e portare abbastanza potenza qua sotto per riuscire a navigare? Andiamo a vederlo. Effettivamente, ora sì, riesco appunto a vedere questa rete. Il segnale non è potentissimo, ad occhio circa il 40-50%, però riesco a vederlo e riesco a connettermi velocemente. Andiamo a fare anche uno speed test e vediamo che riesco a navigare all'incirca con un 4 megabit per secondo in download e uno pieno in app. In realtà la velocità in app è quella totale. Quindi più o meno equivale al 40-50%. della velocità originale della rete. Probabilmente, sicuramente direi, se dovete utilizzare un repeater in una situazione meno impegnativa, quindi magari con delle normali, come dire, pareti di casa o normali soletti, dimensioni normali, come dire, allora probabilmente riuscirete a tenere un risultato anche migliore rispetto a quello che ho ottenuto io. In ogni caso direi missione compiuta, perché in una situazione in cui non esisteva per niente la rete, non ci si riusciva a collegare, non ci si riusciva a navigare, sono riuscito a portarla, seppur con un segnale non pieno, si riesce a collegarsi e si riesce a navigare. Quando ho iniziato a fare video qui sul mio canale, diversi anni fa, in realtà, sui vari sistemi, i vari repeater, i vari sistemi mesh, tendevo a consigliare i sistemi mesh per applicazioni di questo genere e in realtà lo faccio ancora oggi o meglio, tendo poco a consigliare i repeater e il motivo è che almeno qualche anno fa i repeater disponibili in commercio erano dispositivi estremamente semplici che non offrivano delle buone prestazioni. Oggi la situazione è un po' cambiata, quantomeno se prendete dei modelli, come dire, non di primo prezzo, non modelli da 20 euro, infatti un prodotto come questo e altri prodotti simili di fascia un pochettino più alta integrano al loro interno diverse tecnologie che sono state ereditate dai sistemi mesh e di conseguenza offrono un'ergonomia migliore. Abbiamo per esempio il beamforming che permette alle antenne di indirizzare, come dire, i segnali precisamente dove si trova il dispositivo connesso a quella rete per migliorare le prestazioni di connessione. Il band steering che permette di assegnare la banda migliore per la tipologia di traffico e dispositivo che volete collegare. L'airtime fairness che assegna a ogni dispositivo collegato alla rete come dire, le stesse chance di collegamento, cioè lo stesso tempo di collegamento per evitare che magari sulla vostra rete ci sia un dispositivo estremamente lento che mette in stand-by come dire, la connettività con tutti gli altri dispositivi andando a degradare l'esperienza. Insomma, quello che voglio dire è che oggi i repeater, quantomeno quelli da una certa fascia in su, offrono delle tecnologie aggiuntive che permettono di avere una buona esperienza simile, ecco, non precisamente al 100% identica, ma simile a quella che si può avere con un sistema mesh dal punto di vista dell'uso proprio, quindi dell'ergonomia, dell'utilizzo di quella connettività wifi all'interno della casa. Quindi cerchiamo di capire quando bisogna acquistare un repeater o quando invece bisogna acquistare un sistema mesh, andiamo a esclusione, quindi quando bisogna acquistare un repeater. Se non avete necessità di gestire una copertura wifi su un appartamento estremamente grande o non avete la necessità di portare appunto il segnale wifi tra più piani, magari avete una casa che ne so, su tre piani, allora in quel caso gestire il tutto con un ripetitore potrebbe non essere la soluzione ideale. o se ad esempio non avete necessità di portare il segnale wifi fuori dalla casa come vi ho fatto vedere in un altro mio video che io ho portato in quel caso tramite un sistema mesh la connettività wifi dall'appartamento al box perché dovevo collegare la Tesla. Quindi se non avete queste necessità e avete anche un budget limitato o comunque non volete spendere tanti soldi, semplicemente volete risparmiare, allora in quel caso un ripetitore wifi sarà più che sufficiente per le vostre necessità. Il mio consiglio in ogni caso lo ripeto è evitate se potete quei modelli super economici cioè i modelli da 20 euro da primo prezzo perché in quel caso a parte la potenza limitata alla fin dei conti poi avrete anche un'esperienza generale un po' zoppicante quindi magari connettività che cade vi spostate da una parte all'altra della casa devi riconnettersi alla rete e iniziate a avere i blocchi di navigazione cose che alla lunga fanno girare le balle. Questo modello nello specifico che ho utilizzato io costa una settantina di euro quindi non costa pochi euro ma assolutamente non costa quanto i vari sistemi mesh che arrivano a costare 7-8 volte tanto i modelli top di gamma intendo. Bene amici io spero con questo video e anche con questo esperimento un po' estremo che vi ho fatto vedere di aver chiarito meglio e avervi dato un consiglio se vi trovate appunto in quella situazione in cui dovete portare un bello wifi insomma anche nelle stanze più lontane della vostra casa in cui la navigazione è un po' zoppica questa del ripetitore wifi potrebbe essere la soluzione ideale. Scrivetele qui sotto nei commenti e vi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un mi piace noi ci vediamo in un altro video ciao ciao